Musica Hello guys, benvenuti in questo nuovo video qui sul mio canale, siamo su Minecraft E io ho una cazzo di Portal Gun Ok, è vero, non vi ho fatto vedere come l'ho trovata Ma l'ho trovata durante un live di Luke mentre io andavo a cercare le api Ho trovato una cesta di un dungeon Di un dungeon Quelle della Towncraft, ok, quelli blu Viola, blu, quelli che sono E praticamente, niente Ho trovato dentro una Portal Gun con il Bacon Che è una Bacon Gun Una Bacon Fucking Gun Ok, allora, non ricordo più cosa eravamo rimasti l'altro giorno Ah sì, eravamo rimasti Adesso vi faccio vedere, scendiamo al volo giù Fammi vedere che è un alimentario Ha un po' di roba perché ho ucciso dai tizi Vabbè, niente di che Qua la lava a posto Qui a posto Andiamo di là Andiamo di qua Gira Ok Allora, qua abbiamo un problema Dobbiamo finire assolutamente qui Il Rolling Machine Certo Il Starting Machine ha finito Dobbiamo farci i tubi Adesso li andiamo a fare Però Stavo pensando che effettivamente Dovremmo portarci questa roba qui O almeno questo tipo di elettricità giù O qualcosa tipo anche questa elettricità Ma comunque giù Perché? 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 Perché vi faccio vedere Per non fare come ho fatto l'altra volta Io vorrei che il Sorting Mandasse la roba da cuocere a cuocere E poi la roba da cuocere venisse mandata Nel culo ecco dei barrel Quindi Sto pensando un attimo a cosa fare Comunque qua abbiamo un po' di roba Ah, c'ho del copper da cuocere Interessante Fermi Rotary Vai, vai, vai Rotary Funziona Ah, mi avete detto anche Che effettivamente Così sto sprecando tanta energia Quindi faremo un altro MFSSU MFSU Eccolo qua Cioè lo inculiamo proprio lì Mmm Ah, si possono usare i zaffi Oh, spettacolo, bros Oh, qui mi boccano Fermi tutti Eh, due secondi che torno subito Ok, guys Allora mi do a muovere Perché Luke ha richiesto La mia presenza nel live Quindi facciamo assolutamente Questa MFSU al volo Devo fare Sailapatron Che si fanno Con zaffiri Oh mio Dio Oh mio Dio Allora Prendiamo uno stack di zaffiroli Allora Facciamo così Eh, un attimino Al volo Al volo Al volissimo Tanto mi scrivono su Skype Alla mia ragazza Ciao amore Ti amo tanto Ma non posso risponderti Perché vado un po' di fretta E quando dico un po' Effettivamente Sto facendo un eufemismo Bello e buono Oh sì Dannatamente sì Allora Prendiamo questi Prendiamo questi Facciamo un botto Di copper cable bro Ho deciso E faremo un botto Di copper cable Quindi diciamo così Diventate tutti cavi Belli miei Bravi Bravi Accavettatevi Che senso Eh beh Beh sì sì C'ha senso Andiamo a prendere Altra gomma Altra gomma Altra gomma Oh thank you very much Thank you very much Oh via Perfetto Abbiamo tutti i cazzo Di cavi Che ci servono Allee Mettiamo a fare Circuiti elettrici Circuiti elettrici Facciamo 10 di questo Prendiamo un po' di redstone Eh dobbiamo anche andare Dobbiamo assolutamente Finire sto cazzo Di impianto bro Perché Eh mi servono materiali Mi servono assolutamente Materiali Se no siamo nella merda Se no siamo in the merda Allora Quanti me ne servono Ehm Me ne servono 2 Per la patron Me ne servono 12 Oh cazzo Me ne servono assolutamente 12 Me ne servono assolutamente 12 Dobbiamo cuocere Più roba Più roba Oh cuociti Bello Bello de papino Vai qui Dai 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 In realtà me ne servono 13 Perché ne devo fare un avanzato Ok Perfetto Butta qui Metti qua Facciamo 5, 7, 12, 13 Perfetto Via Via Sembra che stavo dando i numeri all'otto Bro sto facendo La corsa contro il tempo Contro il tempo E il gempo Ehm Due Crystal E qui Allora Qui ho 4 di questi Due di questi E uno di questo Perfetto Allora Siamo messi con Questi che vanno messi qui Che vanno messi qui Che vanno messi qui Questi che vanno messi qui Dobbiamo fare 6 Ne dobbiamo fare 6 3 4 Buttiamo la snowball 5 Buttiamo la snowball 6 Ok Mettiamola Mettiamola così Mettiamola assolutamente così Perfetto Sopra ci va Un advanced Cazzo in culo Poi sotto ci va Un MFE E sotto ci va Un advanced MASH in blocco Oh mio dio Non ce la fermo mai Non ce la fermo mai Non ce la Che cazzo ci faccio Con delle palle di neve io Via 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 Questa La chiamerò La puntata contro il tempo Renna contro il tempo Deve essere un'esperienza interessante Allora mettiamo un attimo a posto Prendiamoci I nostri secondi di calma Perché Se no davvero impazziamo Ok Energy crystal Perfetto Allora Redstone e rubini Ce ne servono quanti Scusate 4 4 Perfetto Allora 4 di questi E 4 di questi Ok Di questi Me ne servono 4 Di queste Me ne serve tanta Ok Tanta perché È un numero indecifrabile Quello che me ne serve Assolutamente Diciamo così Perfetto Intanto a parte la musichetta di minecraft Cercando di farmi Di rilassare Ma non hai ben capito Vero bro Che effettivamente Non è possibile rilassarmi In questo momento Però vabbè Tu ci provi E io E io Apprezzo il tuo provarci Ah ci serve al centro Che cosa serviva Un machines block Vero Un machines block Un machines giglock Riglock Eccolo qui Lo facciamo un attimo qui Mettetevi a posto Voi questo qui Un machine block Ok Lo mettiamo qui Abbiamo il nostro MFE Abbiamo tutto No Ci serve l'advanced machine block Cazzo rola Cazzo e rola Aspettate Fermi tutti Fermi tutti Ce la possiamo fare Però ce la possiamo fare Ne manca solo uno Allora Dobbiamo fare Ah ci serve il rolling Ci serve il rolling machine Rolling machine Ci serve smontare Uno di questi Uno di questi Qui Come lo smonto Io lo smonto così Torniamo subito 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 Dove cazzo Perfetto Thank you Cavi Cavi Grazie Grazie per i cable Ok Ok Una leva Ho una redstone torch Va benissimo lo stesso Vai Inizia a pompare l'energia dentro Che noi prendiamo Allora Serve copper Tin E Ah no Forse era bronze Non era copper Forse era bronze Era bronze Fucking Come si fa il bronze Non me lo ricordo più Perché non me lo ricordo mai Come si fa il bronze Oh signore Allora Il bronze Se fa con il copper Con il copper E la tin Ok Quindi 3 di tin E un copper Quindi facciamo 6 tin 6 copper E un tin E un rintintin E poi il ferro rifinito Che abbiamo g Che abbiamo g Perché vi ricordo Che noi abbiamo g Il ferro rifinito Ok Così Perfetto Prendiamo una tin Una tin Una tin Ok Andiamo a farci Il tutto ciò Ok Move Move Shake 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 Ok Ok Quanti dobbiamo fare 2 vero 2 Ok Perfetto E intanto Dobbiamo macerare Della roba Ci servono 16 pezzi 16 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 Siamo messi Molto molto male Compressor Che va alla velocità Del Gesù Grazie Ok Intanto Noi iniziamo a fare No Non iniziamo a fare Nulla Ci servono 16 pezzi Ok Adesso Questi 16 pezzi Facciamo così Così E così Questi diventano così Che vanno messi così Che diventano così Che poi vanno messi Qui No Vanno messi qui E vanno compressi Yes Oh yes Shit Omg Possiamo farcela Possiamo Fottutamente Farcela Ok Così 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 Babam Abbiamo fatto L'MFSU Con Non so A che velocità Abbiamo fatto Tutto ciò Sinceramente Ma l'abbiamo fatta La cosa importante È proprio Che l'abbiamo fatta Ok Allora Io direi Guardate Io direi Di metterlo Di metterlo Qui Facendo Questa roba Così Intanto Continuano A Piccarmi Ok Olè Via Quindi questo Si riempie Perché poi riempie Quello E siamo a posto Allora Guys Abbiamo fatto Un bellissimo Un bellissimo Impianto Un surplus Per il nostro Per la nostra Energia Ecco perché Non è mai abbastanza Questa la stacchiamo Questi cavi qua Pure Li stacchiamo Andiamo a rimettere a posto Il nostro bellissimo Motore Per quello Che noi utilizziamo Esattamente Così Per il Quarry Vi ricordo Allora Che Nelle prossime puntate Finiamo Lo smistamento Cesto Dovevo solamente Un attimo Studiarmi L'impiantino Per cuocere Scuocere La roba No Cuocere Basta Sinceramente Quindi Guys Detto questo Spero che la puntata Vi sia piaciuta Se ho dato un po' Di fretta Ma perché Effettivamente Vedete C'è Luke Nel server E ho da fare Con lui E spero Non me ne vogliate Poi Nelle prossime puntate Vediamo Di farci Qualcosa Di davvero Davvero Figo Oltre Allo Smistamento Cesto Vi ricordo Che siamo Solamente All'inizio Di questa Fantastica Serie Bene Io vado Enjoy E crederne sia Con voi Bye Bye